Senti Clara, velocissima, ora Tania Calvo cerca di andare a chiudere in queste cose di corsa e riuscita a sorprendere tutte le avversarie, grande prova di forza, Senti Clara, Senti Clara Senti Clara, vincitrice del Kairin, una gran victoire, complimenti! Grazie, grazie! Come è stata la gara, come ti sei trovata, impegnativa? Molto bene, sono felice di aver vinto questa gara e anche oggi, e ho buoni piedi, quindi sono molto felice e mi piace venire qui, in Fiorenzola. La mia prima selezione è stata qui, 12 anni fa, quindi da un lungo tempo, e sono sempre felice di essere qui, perché le persone sono riuscite. La prima gara, esattamente? Sì! Ok, ci ha spiegato che 12 anni fa, ci ha ricordato, giustamente hai esaurito qui a questo livello, è sempre felice di tornare qua, una gara impegnativa, ma che l'ha impegnata parecchio, però alla fine è una grande vittoria. Quindi, grande complimenti, Clara, e a presto! Grazie! Grazie! Ciao! 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 Ciao!